il direttore ha mangiato pesante qui ci vuole vigorsol il pronto soccorso alito vigorsol il pronto soccorso alito è il chewing gum in confetti dal gusto fresco freschissimo vigorsol il chewing gum che ti dà alito fresco vigorsol vince e per chi lo preferisce c'è una novità vigorsol senza zucchero